salve tutorial di chiacchierino della rubrica alle vostre richieste vi presento il nuovo progetto che mi è stato sollecitato da debiricami è una serie di rosette separate da archetti è una richiesta che mi è stata fatta già da un po di tempo che però non riuscivo a accontentare perché devo trovare un progetto adatto per poter mostrare il procedimento di lavorazione questo progetto mi sembra ideale per poter accontentare questa iscritta al canale quindi io volentieri l'accontento ho già fatto la versione a navette che era quella che mi veniva sollecitata espressamente adesso io farò la versione ad ago perché sempre tengo in linea le due tecniche per agevolare chi non conosce il funzionamento delle navette preferisce lavorare ad ago quindi questo è il progetto andiamo a vedere i materiali ci vediamo tra un pochino bene iniziamo ad illustrare i materiali allora per quanto riguarda il filato sto utilizzando questo filato in fila perle da 0 60 mm e azzurro tonalità di azzurro molto bella che mi piace molto naturalmente un filato sintetico però io lo utilizzo molto spesso per il chiacchierino perché da un lavoro diciamo compatto i nodi sono molto ben definiti e soprattutto lucidi perché somiglia molto alla seta non è seta è un filato sintetico però l'effetto è veramente buono e tra l'altro sono filati molto economici che vengono venduti nei banchetti anche dei cinesi quindi a un euro due euro trovate rocche di questo tipo insomma quindi per questo progetto utilizzerò questo poi utilizzerò delle perline bianche da mettere negli apici dei cerchi da due o tre millimetri molto piccole vi consiglio di utilizzare delle perline piccole perché il centro della margherita non è eccessivamente spazioso di conseguenza utilizzando delle perline troppo voluminose non si valorizza diciamo non si impreziosisce a dovere il centro delle margherite quindi l'altro progetto sono delle drops che sono senz'altro molto graziose però sono un po' voluminose quindi adesso proverò con quest'altro quest'altra tipologia di berlina poi per la chiusura utilizzerò questo moschettone chiusura moschettone dorato da 13 x 7 il codice cl 10 e 190 e poi utilizzerò questi anellini per assicurare il moschettone al nostro bracciale anellino dorato aperto da 5 mm diametro 0 8 mm il codice jr 10 119 per quanto riguarda gli strumenti io utilizzerò un ago da chiacchierino numero 7 una forbice un uncinetto un gioco di pinze per montare la chiusura e un filo da perlinatrice con ago sottile per montare le perline sul filo di lavorazione utilizzerò anche questa bollatina a forma di fiore dove c'è scritto handmade in inglese in italiano è una bollatina dorata anticata da 12 mm il codice cr 16 794 quindi ci vediamo tra poco per il procedimento del nostro bracciale a tra poco bene iniziamo il lavoro allora ho già infilato lago ho lasciato una coda di circa due metri due metri e mezzo alla mia destra ed ho provveduto ad infilare le mie perline sul filo di lavorazione e per questo passaggio metterò il link del tutorial che ho fatto dove vi mostro il la tecnica di inserimento perché ho pensato di fare in questo modo perché altrimenti i tutorial diventano troppo gran pa lunghi per spiegare tutti i vari passaggi e quindi poi francamente vorrei risparmiare i passaggi conosciuti alle persone che non ne hanno bisogno insomma quindi cliccate sul link se ne avete bisogno e quindi procedete con il tutorial e vi illustro per grandi linee il procedimento che dobbiamo seguire per realizzare le rosette le rosette si eseguono su due metà la prima metà composta da quattro cerchi separati da tre archi dopodiché c'è l'arco a dividere le varie rosette che è composto da quattro doppi nodi due perline e quattro doppi nodi poi di nuovo si procede con la rosetta successiva facendone soltanto metà quindi con la successione dei quattro cerchi centrali divisi dai tre archetti poi di nuovo si procede con l'arco che divide le due rosette nel modo che abbiamo visto precedentemente dopo di che si procede con l'ultima rosetta l'ultima rosetta si lavora completamente quindi si eseguono di seguito tutti gli otto i cerchietti centrali e di conseguenza tutti gli archetti e quindi risalendo sul fronte opposto del bracciale si completano le rosette con l'altra metà composta dagli altri quattro cerchietti separati dai tre archetti poi si unisce all'arco di separazione inferiore quello superiore e si completano così tutte le rosette fino ad arrivare all'ultimo all'ultimo all'ultima rosetta dove si completa la parte superiore poi si udiscono si udisce l'ultimo archetto al primo eseguito e il bracciale è finito diciamo quindi per cominciare noi dobbiamo eseguire una serie di quattro cerchi che sull'apice montano nel pippiolino centrale una perlina che nel caso che vedete qui è una drops però come vedete è un po voluminosa la drops quindi ho pensato di sostituirla con una perlina da mi sembra tre millimetri due millimetri tre millimetri e i cerchietti hanno queste caratteristiche sei doppi nodi un pippiolino un nodo un doppio nodo un pippiolino che monta la perlina un doppio nodo un pippiolino sei doppi nodi chiudere dopo di che voltiamo il lavoro e procediamo con gli archetti gli archetti hanno una successione di otto doppi nodi poi di nuovo torniamo sul fronte del cerchio ed eseguiamo un altro cerchio esattamente uguale al primo e così via per quattro volte quindi faremo quattro cerchi separati da tre archetti e poi ci dedicheremo all'archetto di separazione che prevede quattro doppi nodi un pippiolino con due perline quattro doppi nodi e si ricomincia con la rosellita successiva quindi io direi di andare direttamente al procedimento del del nostro bracciale in modo che così vediamo nello specifico come si esegue la lavorazione allora prendiamo il nostro ago da chiacchierino e cominciamo ad elaborare il primo cerchio che prevede sei doppi nodi un pippiolino un doppio nodo un pippiolino che monta la perlina centrale un doppio nodo un pippiolino sei doppi nodi chiudere quindi sei doppi nodi uno e sei ora facciamo il pippiolino piccolo di separazione di aggancio diciamo quindi un doppio nodo accostiamo alla lavorazione il primo gruppo di perline quindi ne prendiamo una e l'avviciniamo al lago da chiacchierino poi eseguiamo un doppio nodo un pippiolino sempre di aggancio e sei doppi nodi uno e sei quindi il nostro cerchio è completo allontaniamo il filo dalla pruna del lago per agevolare la chiusura del cerchio chiudiamo tiriamo bene il filo inseriamo lago nella cappiolina e serriamo facciamo un piccolo nodino alla base del cerchio per impedirne la riapertura questo è il nostro primo cerchietto che presenta la perlina centrale e due pippiolini laterali che ci serviranno da aggancio per i cerchi adiacenti ora dobbiamo procedere con l'arco quindi voltiamo il lavoro puliamo lago da chiacchierino sulla base del cerchio già lavorato ed eseguiamo otto doppi nodi uno e otto tiriamo bene il filo tutto perché un arco se volete applicate anche qui alla fine dell'acqua un nodino per bloccarne i nodi e torniamo sul fronte del cerchio a questo punto dobbiamo fare un altro cerchio uguale a quello che abbiamo già fatto quindi sei doppi nodi e sei procediamo con la prima legatura quindi uniamo gli apici dei due cerchietti il primo lavorato e quello in esecuzione tiriamo fuori la cappiolina dal pippiolino del cerchio adiacente inseriamo il filo sul lago di lavorazione ed eliminiamo il filo in esubero quindi pratichiamo il primo doppio nodo 1 avviciniamo la seconda perlina e facciamo il secondo doppio nodo leggermente distanziato per dare respiro la perlina poi facciamo il piccolo pippiolino di aggancio e i sei doppi nodi finali quindi 1 e 6 chiudiamo il cerchio tenete i nodi in chiusura sotto il pollice i polpa strati del pollice dell'indice e per mantenerli compatti durante lo spostamento del filo di scorrimento che passa attraverso di loro quindi in questo modo siete garantite sul fatto che i nodi restino comunque ben distribuiti e ben distanziati tra di loro ecco abbiamo fatto il secondo cerchio ora voltiamo il lavoro e facciamo il secondo arco lo ripetiamo quindi fatto il cerchio facciamo un arco di 8 doppi nodi 1 e 8 tiriamo via il filo di lavorazione tutto perché stiamo eseguendo un arco e appliciamo un piccolo nodino alla fine del gruppo di modi dell'archetto giriamo di nuovo il lavoro vi faccio vedere per l'ultima volta la successione di nodi del del cerchietto centrale quindi poggiamo l'ago da chiacchierino alla fine dei nodi dell'arco e iniziamo a lavorare sei doppi nodi 1 2 3 4 5 e 6 quindi procedete alla l'aggancio con cerchi adiacente tramite il pippiolino che avete creato accanto alla perlina eliminato il filo esubero e procedete con il primo doppio nodo singolo quindi accostate la perlina la terza e fate il doppio nodo singolo successivo leggermente distanziato dalla perlina poi fate un pippiolino di aggancio quindi pochi millimetri e i sei doppi nodi finali a conclusione del cerchio quindi 2 e 6 chiudere il cerchio tirate via tutto il filo tranne l'ultimo tratto dove inserirete l'ago di lavorazione quindi serrate la cappiolina tirate via il filo serrate il cerchio attenzione i nodini perché è un filo ritorto e si presta ad avvolgersi e a creare strane annodature durante l'esecuzione dei nodi applicate il nodino finale quindi abbiamo fatto riepilogando tre cerchietti alternati da due archi facciamo ciascuno per conto proprio il prossimo arco e il prossimo cerchio quindi ci rivediamo qui per vedere come funziona l'arco di separazione tra le rosette a tra poco